Verona non ha voluto far mancare nella sua rappresentanza istituzionale una presenza forte, tant'è che si è liberato da precedenti impegni e con molto piacere che chiamo il sindaco Avvocato Sboarina a salire sul palco e portarci il nostro saluto. Buongiorno a tutti, io sarò velocissimo anche perché non è che ho cancellato precedenti impegni, ho detto fermatevi un attimo che devo correre in gran guardia e poi riprendo l'impegno che avevo. Tra l'altro sono entrato nel momento in cui c'era Francesca Briani che stava finendo il suo intervento, vedo anche l'assessore senatore Stefano Bertacco, quindi l'amministrazione è presente all'interno del palazzo della Gran Guardia che è il nostro palazzo migliore dal punto di vista congressuale, il nostro palazzo più bello e quindi è un'amministrazione che nella sua interezza a partire da me è orgogliosa di rappresentare questo vostro evento. Gli agenti immobiliari evidentemente sono una realtà importante anche e soprattutto all'interno della nostra città come professione, io ribadisco sempre e rivendico sempre il fatto, quindi sono molto vicino a tutti i professionisti, perché anch'io lo sono, io faccio l'avvocato e rivendico il fatto di, si dice in questi tempi, di avere un lavoro e quindi io vivo come vivete voi del vostro lavoro e quindi è un piacere ospitarvi nella nostra città e quindi l'unica cosa che posso dire a questo punto, anche perché così posso ritornare alle mie inconvenze, in realtà faccio il maratonetta, non faccio il sindaco in queste prime settimane di amministrazione, di augurarvi una buona giornata, un buon lavoro e che sia un lavoro proficuo per i vostri lavori odierni e che sia un lavoro proficuo per la vostra attività per il futuro. Buona giornata.